Con il centrocampista bianconero, Esmeraldo Bondai, facciamo una sorta di bilancio di questo giro in andata e di questo giro in retorno dell'Apanese, come sta andando? Inizialmente abbiamo avuto un impatto molto importante sul campionato, dove abbiamo fatto risultati buoni, molto buoni. Poi all'andare abbiamo avuto un po' un calo con i risultati, dove siamo andati anche un po' di più oltà, diciamo. La presa ha un ottimo rendimento tra le muramiche, in trasferta, però purtroppo nonostante le belle prestazioni e tante occasioni create, spesso viene punita il primo gol e non porta a casa punti. Qual è il perché? Allora, sicuramente giochiamo un bel gioco, sia in casa che in trasferta. Forse in trasferta ci manca quella cattiveria dove nel nostro campo lo mettiamo ogni partita. A livello personale, te quasi sempre isolare, segniamo un gol, siamo da stagione, non mi sta andando? A livello personale posso dire che potrei fare molto di più, soprattutto sui gol dove, come hai detto te, ne ho fatti solo uno e speriamo di farne tanti, molti altri. Senti, te nasci centrompista, quest'anno sei stato impiegato in alcune frangenti dal Mr. Brando, appena il terzino, come sta andando? Quando è arrivato Mr. Brando, ma diciamo mi sono anche adattato come terzino, dove cerco di fare il più possibile per aiutare la squadra. Senti, questi ultimi 3-4 mesi per centrare le off? Il nostro obiettivo allora è quello di fare bene partita dopo partita, poi vediamo all'andare.